Beh, secondo lo stesso documento programmatico di bilancio del governo, quindi la fonte è Gualtieri, la pressione fiscale aumenta nel 2020 dello 0,1, quindi non aumenta di tantissimo ma aumenta, perciò sfatiamo il fatto che ci sia una diminuzione della pressione fiscale. È altrettanto vero che non si tratta della manovra delle tasse che dice l'opposizione, perché ancora una volta passare dal 41,9 al 42% non è una diminuzione ma non è un aumento sostanziale. Le entrate complessive, perché è bene che chi ci ascolta sappia che di solito si parla della pressione fiscale, ma lo Stato ha anche altre entrate, quindi ha entrate ad esempio, per fare un esempio comprensibile a tutti, le multe non sono entrate fiscali. Piuttosto che i dividendi delle società pubbliche non sono entrate fiscali. Le entrate complessive del Paese, quindi quello che lo Stato riceve, rimangono tale e quale, 46,5%. Quindi diciamo è una manovra piatta, completamente piatta, perché sotto il profilo dell'entrata rimaniamo più o meno così. Piuttosto è una manovra piatta, ma anche all'interno del piattume non ci sono delle misure che favoriscano realmente la crescita, se non la reiterazione di quello che già c'era. L'industria 4.0 rimane quello che già c'era, ma non c'è niente di nuovo, rimane un'assurdità come la quota 100, che non viene nemmeno scalfita. Perché è un'assurdità? È un'assurdità perché tra il 2020 e il 2021 la sola quota 100 costerà 17 miliardi. Qui stiamo a parlare dello 0,1, 17 miliardi non è poco. In secondo luogo perché la quota 100 fu promessa come la panacea per l'ingresso di nuova forza lavoro che avrebbe sostituito quelli che vanno in pensione. Ora abbiamo visto invece che la sostituzione che Di Maio prevedeva un lavoratore mezzo nuovo per ogni lavoratore che andava in pensione, che è già quello, facciamo un po' ridere, comunque alla fine si è trasformata in tre lavoratori ogni dieci che vanno in pensione. E di questi tre lavoratori gran parte sono il 100% di riassunzione che fa la pubblica amministrazione, perché se uno guarda le imprese private invece non si è verificato niente. Quindi in poche parole la quota 100 è un qualche cosa che ha favorito coloro i quali avevano già un lavoro e un reddito sufficiente per andare in pensione senza troppi danni, non ha portato un nuovo lavoro, la vuole mantenere in questo caso unito centrodestra e centrosinistra, tutti dicono no manteniamo la quota 100 ormai è diventato un diritto quesito, io non penso che sia un diritto quesito, penso che sia un privilegio concesso e quindi come tante altre cose che erano diritti quesiti tipo l'indicizzazione dell'inflazione delle pensioni sono stati tolti e secondo me quello sì che è un qualche cosa di grave per le pensioni oltre un certo reddito ovviamente, così non si capisce perché questo sia un diritto quesito e non un privilegio, però quando si tratta di spendere e accontentare l'elettorato che vota, destra e sinistra hanno un'unanimità di intenti degna di miglior causa un'unanimità di miglior